Finalmente le aree del Mingardo tornano alla comunità, cambio di destinazione d'uso completato, riaperti i parcheggi che hanno un'importanza enorme per tutta l'area, per i turisti e per le decine di attività che insistono su quella zona. Siamo qui sul Mingardo, stiamo spostando gli ultimi New Jersey per consentire l'apertura ufficiale delle aree che sono da oggi aree sosta a tutti gli effetti. Come potete vedere qui sul Mingardo c'è già una grande affluenza, quindi è una giornata storica, è un sabato, l'ultimo sabato di luglio, le aree tra poco saranno sicuramente piene di turisti ed è veramente un momento importante soprattutto per chi orbita in queste aree, sia per chi ci lavora e quindi potrà dare più opportunità di lavoro, ma soprattutto per i turisti che vivevano notevoli disagi. È l'ennesimo grande risultato di questa amministrazione, ringrazio tutti, dagli assessori ai consiglieri, alla parte tecnica che ha fatto un lavoro importante alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per aver attenzionato questo problema, problema agli usi civici, la Regione Campania per aver consentito il cambio di destinazione d'uso di quest'area. Noi andiamo avanti per risolvere i problemi dei nostri concittadini, avanti così.